Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Con questo picco influenzale e con questa recrudescenza del Covid è quasi caos. Le immagini che vedete sono quelle di uno degli ospedali più grandi del sud. Eppure al Cardarelli di Napoli, come in tante altre strutture cittadine, i posti letto non bastano più. A causa dell'influenza stagionale del Covid, che insieme hanno messo a dura prova la rete di pronto soccorso. È come quando sei nella metropolitana, quella è la situazione attuale. Cioè parliamo di gente che non sta, cioè che non ha neanche la barella, gente che sta sentando sulla sedia, sai quei tavolini, quelle sedie da ufficio. Devi chiedere permesso, permesso agli ammalati. A raccontarci della situazione di emergenza, è un infermiere che lavora da più di 30 anni e ha scelto l'anonimato. Gestire è impossibile gestire, perché gli accessi sono sempre il doppio di quando dovrebbero essere. Com'è possibile non preoccuparsi? Eh. Eh, allora.